Vedete che sto diretta? Perché sto sbagliando? Ah perché è tu la prima volta che lo fai una donna così? Io so di no. Io so di no. Io mi sono informata prima di che cazzo c'è. Io so che tu prendevi per il collo la tua ex perché si metteva le connelline. Me l'ha scritto. Ma chi te l'ha scritto? Ma che cazzo ti ha scritto? Davanti anche a tua sorella l'hai fatta, dai. Che cosa? Dai. Ma che cazzo ti prendevi? Perché si vestiva corto. Ma che cazzo dici io? Certo. Con me nessuno si è mai vestito corto e mai ci prova perché se no... Ah no? Ma che stia scherzando? L'hai detto anche tu? Che cosa? Te l'ho detto perché mi è stato detto. Ma non è stato detto niente perché io non avrei mai permesso a prescindere. Non c'era bisogno di mettere le mani addosso a qualcuno perché se io... L'hai presa per il collo, davanti a tua sorella. Se io ho una relazione... Dai, al gen... Una donna non ci riesce con la connellina. Non dire cazzate. Non dire cazzate. Non dire cazzate. Ah non è vero, è una stronzata? Quando si chiude ti dico che me l'ha detto. Ma per me lo vuoi di pure mo. Mo vuoi di... come te pare? No, lo vuoi di pure. Non so. Ma è una cazzata. Perchè mi guarda così? Non mi devi guarda così. Capita? Mi dico quello che succede. Un giorno lì mi dice mamma esco vado a Torino. Sì, vai. Si sta arrabbiando. Eh? Va bene, va bene. Va bene. Alla sera non torna. Ah, sei in diretta ancora? Il telefono mi dava. Bravo. Alla sera non torna.